Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Faremo la chiusura massima alla spalliera. Siccome le spalliere sono poche, ci mettiamo appese alla parallela. Toccate gli alluci allo stagio, li potete staccare quando non ce la fate più, arrivate all'orizzontale, sotto l'orizzontale, stop. Vinci tu? Sei ironica? Sì. Perché? Ma scusa, tu credi in te stessa, per favore. Con me poi anche il letro. Cioè, vinci tu, dici no, vinco io. No, va bene, dai. Ok, sto scherzando, ovviamente. Andiamo. Ecco, siamo quasi in postazione. Dai ragazze, mettetecela tutta, sono proprio curiosa di vedere quanto resisterete. Pronte? Pronte? Via! Alluci allo stagio. Aiutami Franci a vedere... Oh mamma, sembrate dei pipistrelli. Aiutami Franci a vedere chi scende sotto l'orizzontale. Dai, dai. L'amichi ci ha lasciato. Dai, dai, dai. Erika, Faddi. Ciao, Emma. Martina. Rivangono Giada e Beatrice. Vince questa sfida Beatrice. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete tanti like e attivate la campanellina per non perdervi tutti i nostri nuovi video. Ciao. 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 Ciao.